Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Dottore Zappia, partiamo dalla situazione riguardante l'ospedale di Ribera. Ormai i posti sono quasi tutti occupati? Per fortuna ancora no, però ovviamente l'occupazione è importante perché abbiamo tutto il reparto, la prima ala del reparto che è stata occupata. Abbiamo sia lunedì che martedì, quindi avanti ieri, ieri fatto una riunione operativa con i vari dirigenti del posto, compreso le malattie infettive, per cui già oggi le malattie infettive salgono a secondo piano e si recuperano un'altra ala. Dopodiché abbiamo i 10 posti da stanteria di cui sei sono occupati e dopodiché vediamo di mettere in campo tutte le azioni possibili perché dobbiamo riconoscere che a dispetto di qualche osservazione abbastanza banale e stupida che è stata fatta nel passato, l'ospedale di Ribera in questo momento sta consentendo che in tutta la provincia possano essere assistiti anche i non-Covid. Fino adesso vediamo che succede. Non bisogna accelerare, però ci stiamo pensando per tempo su quello che possono essere gli scenari. Sul piano delle ipotesi e quindi degli scenari che si possono aprire, naturalmente speriamo che anche all'ospedale di Ribera si torni alla situazione di qualche settimana fa quando sono soltanto pochi ricoverati Covid, ma se questo non si dovesse arrestare è ipotizzabile che vengano inseriti altri pazienti Covid e quindi ulteriori posti letto all'ospedale di Ribera o che gli altri presidi della provincia, vedi Sciacca o Agrigento, possano ospitare i pazienti Covid? Questi sono gli scenari che abbiamo immaginato. Noi riempiamo quanto più possibile l'ospedale di Ribera, perché concentrando lì personale, attrezzature e tutto, quindi ci stiamo adoperando per fare in modo che in questo ospedale ci sia l'assistenza Covid, anche perché poi le malattie infettive sono presenti lì e devo dire che aiutano obiettivamente moltissimo i malati. I scenari successivi quindi sono prima riempire per tutta la capienza possibile all'ospedale di Ribera, poi evidentemente se gli agrigentini continuano a voler mantenere il triste primato di essere primi in Sicilia per numero di contagi, ovviamente non basteranno più e poi abbiamo già fatto degli scenari, ma è inutile parlarne adesso, ma siamo pronti per tutto quello che può succedere, perché il nostro obiettivo, non dobbiamo dimenticare una cosa, la sanità c'è ad Agrigento per curare i malati, i malati Covid sono pazienti. Devo dire un'altra cosa importante che abbiamo già riattivato l'hotel Covid di Sciacca, hotel significa quando una persona sta abbastanza bene da non essere, quindi è già stabilizzato e non ha bisogno di rimanere in ospedale, noi la portiamo nell'ospedale Covid dove ci sono medici, infermieri e os e quindi c'è un'altra fase di assistenza, intensità assistenziale che può essere curata e serva a svuotare l'ospedale. Oggi pomeriggio apriamo anche l'altro di Canicattì, oggi pomeriggio alle 4 appuntamento con il presidente dell'IPAB di Canicattì, dopodiché stiamo tenendo in allerta anche quello di Ribera, quindi ci stiamo preparando man mano per tutti gli scenari che sono possibili. Non è escluso l'impiego anche delle altre strutture ospedaliere come ospedali Covid, come è stato nel passato? Ovviamente non ce l'auguriamo, ma se dovesse continuare dobbiamo curare i pazienti, cureremo dovunque ci sarà la possibilità. Vorrei raccontare due correnti di pensiero, inizio dalla peggiore, la peggiore sia che questo ritardo del vaccino nel mondo porterà delle varianti, questa variante è il virus che varia normalmente, quindi non ci stupiamo delle varianti, però una corrente di pensiero dice che ci sono varianti che potrebbero svilupparsi a causa del ritardo nei vaccini, non tanto da noi, Sicilia, Italia, Agrigento, quanto nel mondo, per cui alcune varianti potrebbero essere poi a sua volta resistenti ai vaccini e questa è la peggiore. La migliore, fatta da colleghi epidemiologi, statistici italiani europei, ci dice che questa è la coda, questa che stiamo vivendo questa settimana e al massimo i primi giorni dell'altra, la coda del posteuropei, di tutto quello che abbiamo vissuto, c'è la parentesi matrimonio su Agrigento che è pericolosissima, quindi questa è la coda degli europei che dovrebbe manifestare il suo apice questa settimana e già dai primi giorni alla prossima avere il lato per poi ridiscendere. Se questo dovesse essere vero, ovviamente io preferisco la seconda e nel qual caso le misure che stiamo mettendo in campo sono sufficienti a oggi. Per quanto riguarda le dotazioni organiche delle strutture ospedaliere, penso in particolare a Ribera, cosa si profila per i prossimi giorni? Si attingerà dalle altre strutture? È prevista una dotazione organica ad hoc? Allora, in questo momento avevamo già convogliato su Ribera tutto il personale Covid, fatta eccezione per le aree grigie degli ospedali che rimangono ovviamente per un paziente che non sai se è positivo o non negativo, abbiamo mantenuto uno standard organizzativo nei vari pronto soccorso e qualcos'altro in alcuni reparti che potevano vedere la presenza di casi dubbi. Ora si rafforzerà la concentrazione del personale su Ribera, oggi approveremo una delibera per la dotazione organica di malattie infettive che è un nuovo reparto e quindi non era previsto nella precedente dotazione organica, poi io avevo iniziato un precedente programma di ulteriori rafforzamenti dei pronto soccorsi, tutti quindi, questo è il discorso al di là del Covid, questo era iniziato prima ma poi ora col Covid si era fermato ma l'abbiamo ripreso ieri, potenziamento dei pronto soccorsi per quanto riguarda OSS, sto parlando di no Covid e infermieri e delle medicine per quanto riguarda infermieri e OSS, infatti ho avuto già contatti con i direttori di questi reparti perché a breve potremmo prorogare o aumentare il numero di presenze che sono al di là del Covid perché non dobbiamo dimenticare che c'è la sanità non Covid da affrontare. A proposito della sanità non Covid un'ultima domanda, per quanto riguarda il pronto soccorso generalista all'ospedale di Ribera che è una richiesta che viene avanzata da tempo, adesso anche secondo i tempi che lei aveva indicato in quella famosa seduta del Consiglio Comunale dovremmo esserci? Certo, se non ci fosse stato il riempimento del Covid oggi penso che nessuno può pensare che c'è un percorso da fare con il pronto soccorso Covid, vi dico solo che la ditta che doveva fare il sopralluogo per i lavori da fare non è potuta entrare perché anche la stanteria nel pronto soccorso attuale è Covid, quindi è una cosa che va tenuta un attimo in pausa perché la ditta era pronta già questa settimana, ha fatto il sopralluogo ma non è potuta entrare perché in questo momento Ribera pensare di fare oggi il pronto soccorso Covid mi sembra una contraddizione in termini, in un momento così in cui fra un pochino dovremmo implementare ancora di più i posti Covid però rassicuriamo alle persone che non è stata una cosa che si è fermata oppure non è stata attenzionata, c'è già la ditta che appaltatrice ai lavori ha necessità di verificare i lavori da fare però in questo momento non è assolutamente pensabile.